Qualche giorno fa abbiamo parlato dei fondi stanziati dal CIP per interventi a carattere ambientale in Calabria, 90 milioni, 10 dei quali sono stati destinati al Comune di Rende, 6 per la bonifica dell'area dell'ex legno chimica e 4 milioni per la bonifica della vecchia discarica comunale di Sant'Agostino. E proprio a tal proposito il gruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio Comunale di Rende ha presentato un'interrogazione all'amministrazione Manna per avere informazioni in merito allo stanziamento di questi fondi e per l'esattezza quali atti relativi a quei stanziamenti si erano in possesso del Comune al fine di vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori. Più volte il Movimento 5 Stelle di Rende aveva manifestato chiedendo interventi per la bonifica dell'area dell'ex legno chimica che, lo ricordiamo, è stata sottoposta a sequestro. Il tempo per agire è già scaduto e da molto tempo, scrivono i grillini, quindi non ci accontentiamo più di annunci roboanti. Per troppe volte i cittadini hanno assistito allo stesso film con la soluzione che sembrava sempre lì a portata di mano visto gli annunci di vittoria dei vari politici, ma nessun lavoro serio invece è mai iniziato sui laghetti inquinati che continuano a spandere i loro miasmi tossici nell'area della nostra città.